Alessandro Penco è responsabile d'area di Nordiconad, un rinnovamento qui in questa struttura imperiese ma anche un po' una logica di attenzione al mutare degli interessi della clientela perché il fatto che ci troviamo in un reparto interamente dedicato agli animali probabilmente fino a qualche anno fa per Conan sarebbe stato impensabile. Sì certo, mutano i comportamenti, ci sono cambiamenti importanti e bisogna stare al passo con i tempi ed è per questo che abbiamo rinnovato completamente il Superstore qua in Caramagna, un punto vendita storico nella città d'Imperia quindi completamente rinnovato con tutti i nostri concept attuali tra cui il Pet Store, questo è il secondo che apriamo in provincia d'Imperia dopo Arma di Taggia, è un punto vendita specializzato per gli animali, sono oltre 400 metri, oltre 6 mila referenze dedicate e quindi speriamo anche in questo caso di essere riusciti ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei consumatori. Punto della situazione di Conad in Liguria sul territorio dal punto di vista occupazionale e economico? In Liguria per noi è una regione importante sulla quale vogliamo investire molto, siamo ben presenti in provincia d'Imperia, abbiamo delle possibilità di sviluppo anche nelle province di Savona e di Genova, quindi chiaramente le ricadute occupazionali saranno certamente positive. Intanto manteniamo quello che abbiamo, lo rinnoviamo, lo ristrutturiamo, abbiamo effettuato 10 ristrutturazioni in Liguria e continueremo a farlo, quindi questo è intanto una crescita a parità di rete che abbiamo, ma un mantenimento dello stato occupazionale attuale e poi quando ristrutturiamo e quando apriamo nuovi concept, come nel caso di Imperia, un aumento delle persone occupate all'interno del punto vendita. Assessore Onelio, le attività commerciali sono tutte importanti, vederne una che si rinnova, si ampia, nel caso oggi della riapertura del Conad di Caramagna è comunque meritevole di attenzione per il tassuto cittadino. Assolutamente sì, io ricordo Piccolo che è la prima apertura di questo Conad e all'epoca era stata una cosa importantissima, gli perstore li vedevi solo nei film americani e adesso loro si rinnovano perché la capacità delle grandi aziende come Conad di riuscire a stare dietro alle richieste del consumatore e vedere cosa cerca, cosa vuole il mercato, come l'aggiunta dei prodotti per gli animali, come il chilometro zero, come certe esigenze che hanno la macchina per pulire gli animali, la sadadina è bellissima, queste cose sono cose che fanno capire che l'ipermercato, il mercato dove trovi una varietà importante di prodotti non è concorrenziale al piccolo negozio ma è complementare a questo, il piccolo negozio deve esistere perché c'è un servizio più adattato alla persona, magari ti porta la roba a casa, uno sa già quali sono i prodotti che richiede quel singolo cliente però c'è anche la necessità di avere una gamma di prodotti più ampia che solo una grande distribuzione come questa con il personale assolutamente qualificato riesce a consigliarti e riesce a assicurarti anche una filiera, il controllo del prodotto dal coltivatore fino al consumatore, la possibilità di avere dei prezzi sostanzialmente più bassi perché facendo un'economia di scala riesce a ottenere un prezzo più basso e quindi essere più vicino alle richieste del consumatore. Davide Aschieri, biologo di Costa Balene, uno dei responsabili di questo progetto ma cominciamo dall'inizio, di che progetto si tratta? Il progetto è un progetto di ricerca scientifica che si chiama Delfini del Ponente che ha come oggetto di studio il delfino Tursiope, è un delfino costiero facilmente visibile anche dalla costa quindi che abita proprio nella zona più vicina alla costa, non a largo rispetto ad altri tipi di cetacee che sono presenti in questa zona. Il progetto è iniziato un anno fa ed è il primo focalizzato su questa specie e che va avanti durante tutte le stagioni, quindi usciamo non solo in estate ma anche siamo usciti in inverno, primavera e autunno. Un progetto che attira l'interesse anche di giovani stranieri perché qui abbiamo delle ragazze che arrivano da un po' distante, da dove arrivano queste vostre collaboratrici? Sì, diciamo che il programma comprende anche degli stagisti che stanno con noi minimo 30 giorni e adesso abbiamo tre ragazzi, un ragazzo italiano ma anche due ragazze straniere dal Belgio e dalla Svezia ma abbiamo avuto anche ragazzi americani dalla Spagna, dall'Ungheria, perfino dalla Corea del Sud la scorsa estate che quindi passano un mese con noi e partecipano alle attività di ricerca sia sul campo o in mare e anche poi tutta la parte in ufficio di elaborazione dei dati, delle immagini, di tutto ciò che raccogliamo in mare quando siamo in avvistamento. Allora, vediamo un attimino di conoscere anche questi stagisti, cerchiamo di capire intanto il nome e da dove arrivano, your name and where you come from. My name is Maya Klaseen and I'm from Sweden. Io sono Sara, delle Marche. My name is Severin Konardi and I come from Belgium. E io sono Francesco e sono di Vicenza. Da Vicenza fin qua per vedere i delfini, per studiare, stare a contatto con questa natura così particolare, perché? Allora, io ho studiato in Inghilterra, biologia marina e effettivamente in Italia non c'era la triennale su biologia marina quindi ho deciso di andarmene e quindi io ho dovuto fare delle esperienze, cercare di aprire un po' i miei orizzonti e questo progetto delfini del Ponente mi sembrava uno dei progetti più interessanti a cui partecipare per aiutare la mia carriera. E meno male perché poi sennò i nostri giovani appunto decidono di andarsene, di scappare e invece noi, dalle nostre parti, qui nel Ponente, abbiamo i delfini, abbiamo anche Costa Balene. Sì, infatti la zona è molto importante sotto questo aspetto perché comunque è una delle zone dell'intero Mediterraneo dove c'è più possibilità di vedere i cetaci in generale non solo delfini ma anche grosse balene, balenottere comuni e i capodogli proprio nelle scorse settimane già le altre imbarcazioni di altri enti di ricerca, di whale watching hanno iniziato ad avere un sacco di avvistamenti di soprattutto grossi cetaci un po' più a largo rispetto ai nostri delfini che studiamo noi ma comunque già una buona presenza a inizio della stagione. Sono molto contento di essere stato eletto alla carica di Presidente del Consiglio Comunale ringrazio i consiglieri che mi hanno votato, il gruppo di maggioranza Andorra Più e ho aperto il mio mandato da Presidente del Consiglio con una ampia disponibilità di collaborare anche con il gruppo Insieme per Andorra. Cercherò di svolgere questo mio incarico al meglio consapevole che si tratta di un incarico difficile ma al contempo anche una sfida avvincente da effettuare per far lavorare al meglio questo consiglio. Grazie È previsto questa sera alle 17.30 il taglio del nastro ufficiale con la partecipazione delle autorità locali per l'avvio dei festeggiamenti organizzati come ogni anno dal Comitato San Giovanni di Imperio Neglia. L'edizione di quest'anno si preannuncia ricca di novità a cominciare dal cambio di location. La festa infatti lascia il tradizionale spiazzo della spianata per trasferirsi nell'area attiva agli ex magazzini del Porto Franco alla radice del Molo Corto negli Ese. Confermato mercantineia che si snoderà invece lungo Calatacuneo con stand di prodotti artigianali. Novità sorpresa anche nel ricco menù che comunque conserva i piatti della tradizione a cominciare dallo stocafisso della pentola dei record gioanina. Si aggiungono musica e intrattenimenti per grandi e piccoli. Gli stand gastronomici apriranno ogni sera a partire dalle 19 e la festa proseguirà fino al 25 giugno. Siamo con mister Tiziano Monterosso e stiamo parlando di calcio a 5 femminile di una grande stagione per voi. E' soddisfatto? Molto soddisfatto. Le ragazze si sono comportate benissimo. Non pensavo neanche lontanamente di arrivare dove siamo arrivate. Cosa dire? Non so. Le ragazze per me hanno dato tutto quello che potevano dare. Sinceramente abbiamo fatto una stagione penso irripetibile. Perché abbiamo ottenuto degli obiettivi che ce l'avamo veramente preferiti prima di cominciare. Perché anche con il capitano ogni intervista che abbiamo fatto abbiamo sempre detto vinciamo il campionato, vinciamo la Coppa. Poi combinazione c'è sfuggita la Coppa. Involontariamente ma c'è sfuggita. Ci abbiamo lottato ma non si è riusciti a prenderla. Però io penso che le ragazze si sono comportate in un modo eccellente. Nel senso che comunque sempre disponibili. Disponibili, un grande sacrificio perché comunque è un calcio dove prima viene il lavoro, poi vengono gli allenamenti. Cioè è difficile, penso che sia veramente difficile. Però abbiamo incontrato un gruppo di ragazze penso stupendo. Stupendo nel senso che è sempre disponibile e si sono sempre messe in gioco penso per arrivare a questi obiettivi. e sono felice di aver raggiunto diciamo il 60% degli obiettivi penso. E quindi niente, penso che sia una buona stagione dai. Tra l'altro una squadra al suo primo anno dalla formazione. Sì, non solo la squadra. Anche per me è stato un primo approccio al calcio a 5 femminile. È stata un po' una cosa così. Campata tutto così. È arrivato d'estate, Tiziano vai a fare il calcio femminile. E boh, ci siamo trovati così, tutti quanti penso. E forse proprio è stato, forse questo, la cosa che ci ha dato più forza per andare avanti. Perché eravamo tutti acerbi. Tutti così. Volevamo provare, volevamo arrivare. Loro mi hanno dato subito disponibilità. Io sinceramente non sapevo un po'. Poi piano piano ci siamo conosciuti, siamo andati avanti, le cose sono venute. Io sempre molto, come dire, sicuro di quello che volevo raggiungere. Perché comunque ho visto il gruppo. Un gruppo forte, un gruppo determinato. Con ragazze, secondo me, di qualità. Non c'è stato il salto in A2, comunque la determinazione è stata molta. Il salto in A2 è una cosa difficilissima. Già secondo me abbiamo raggiunto un obiettivo enorme. Anche nella semifinale del nazionale, recuperare dieci gol a una squadra, secondo me, ben organizzata. È stata un'impresa sicuramente irripetibile. Ma non solo dalla nostra squadra. Penso da qualsiasi altra squadra. Perché recuperare dieci gol è una grande impresa. Una grande impresa. Io alle ragazze, glielo ho detto, secondo me avevamo già vinto lì. Qui con noi c'è anche il capitano di questa bellissima squadra così forte. È Selvaggia Palombini. Abbiamo detto, come ha detto giustamente anche il mister, è un campionato di grande livello. Le ragazze hanno dato proprio tutto. Sì, assolutamente. Una squadra è nata da nulla. Perché comunque noi siamo abituati a giocare tra di noi a livello amatoriale. Abbiamo trovato l'appoggio sia dell'Imperia che del mister, che ci ha insegnato tantissimo. E ci siamo poi trovati lì. Un gruppo solidissimo. Riusciamo a sopperire alle mancanze tecniche, diciamo, con l'unione tra di noi. Ecco, questo ci ha servito per vincere. Alla fine è arrivato dove siamo arrivati. Abbiamo detto anche una stagione da incorniciare. Beh, il campionato è stato indiscusso. Diciamo che io e il mister l'abbiamo sempre detto, è stato indiscusso. La finale di Coppa ci è sfuggita, ma è stata una bella doccia fredda, ci è servita. Però ci siete arrivate in finale. Sì, 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 ci siamo arrivati, ma ce l'avevamo proprio lì, ecco. Diciamo che abbiamo perso una partita che in campionata abbiamo vinto senza problemi. In quel contesto non siamo riuscite. Ma forse ci serviva, perché poi da lì ci siamo un po' ridimensionate. Ecco, voi ragazze che cosa avete di particolare? Ma forse la maturità e l'intelligenza, tra virgolette, perché ormai siamo tutte adulte. La nostra non è una squadra giovane, abbiamo solo una ragazza molto giovane. Quindi alle spalle abbiamo tanti anni di gioco, sia amatoriale che nonno. Ormai anche il mister ha capito cosa chiederci, cosa no. Insomma, siamo grandi, siamo donne, non siamo più ragazzine. Mister, adesso le iniziative? Cercate nuove atlete? Sì, la società è indirizzata verso il calcio a 11. Questo è quello che hanno espresso. Quindi sì, cerchiamo delle atlete, anche se è abbastanza difficile, perché trovare delle atlete a livello della Palombini è difficilissimo. Infatti, le dico, la nostra forza forse è stata proprio la sua umiltà, perché comunque è un giocatore professionista. Si è trovato in un gruppo di ragazze amatoriali dove ha dato tutto, nel senso che comunque gli ha dato la sicurezza del gioco, gli ha dato l'agonismo, gli ha dato quello che serve in un contesto del calcio. Io mi auguro di sì, spero per la società che riesca a trovare delle ragazze per poter fare questo calcio a 11. San Antonio di Padova Fernando Martín nacque a Lesbona da famiglia benestante nel 1195. A 15 anni entrò nel monastero di San Vincenzo dei monaci agostiniani. Il ritorno a Coimbra delle salme di cinque frati martirizzati dai musulmani lo colpì tanto che nell'estate del 1220 divenne francescano. Trasferitosi ad Assisi, visse insegnando teologia e predicando alla gente. Morì all'Arcella, alle porte di Padova, il 13 giugno 1231. Il suo corpo fu sepolto nella chiesetta di Santa Maria Mater Domini, dove oggi sorge la famosa Basilica. Patrono di Padova, del Veneto e del Portogallo, è protettore degli affamati, dei naufraghi, dei messaggeri e delle ragazze da marito. È invocato contro la sterilità coniugale e per il ritrovamento degli oggetti smarriti. Il presidente della Lazio e consigliere della Federal Calcio Claudio Lotito ha formalizzato un'offerta riservata di acquisto per Alitalia. Ora Lotito dovrà convincere Ferrovie di avere la competenza necessaria per entrare nella nuova gestione della futura Alitalia, con Ferrovie dello Stato e Delta Airlines. Il caso è arrivato anche a Palazzo Chigi, dove, come riferito dalla Lega, sono state valutate le manifestazioni di interesse pervenute per definire presto la questione. Si prospettano tempi duri, anzi durissimi, per i cosiddetti furbetti del cartellino. Con l'approvazione del DDL concretezza nelle mani della pubblica amministrazione ci saranno infatti nuovi e preziosi strumenti per garantire migliori servizi per cittadini e imprese. La vera novità è rappresentata dai controlli biometrici in grado di eliminare del tutto i lavoratori che truffavano lo Stato. La videosorveglianza e la rilevazione delle impronte digitali contro le false attestazioni della presenza in ufficio rappresentano una misura davvero rivoluzionaria, ha spiegato il ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Inoltre il ministro ha sottolineato come ci saranno assunzioni e un reclutamento mirato per dare linfa a tutte le amministrazioni. Viene confermato il turnover al 100% e vengono individuate le professionalità da reclutare in via prioritaria, come ad esempio esperti in digitalizzazione, in gestione dei fondi strutturali e in semplificazione amministrativa. SOS Mediterranei e Medici Senza Frontiere hanno steso un bilancio piuttosto preoccupante della situazione dei migranti nel Mediterraneo da un anno dell'annuncio delle autorità italiane di chiudere i porti. In questo anno appunto sono stati 1.151 i morti ritrovati in mare e 10.000 le persone che sono state reimbarcate forzatamente verso la Libia dove saranno di nuovo esposte ad inutili e pesanti sofferenze. La risposta dei governi europei alla crisi umanitaria nel Mar Mediterraneo e in Libia è stata una corsa al ribasso, sostiene Anne Marie Luff, responsabile per operazioni di MSF. Un anno fa abbiamo implorato i governi europei di mettere al primo posto la vita delle persone. Abbiamo chiesto un intervento per mettere fine alla disumanizzazione delle persone vulnerabili in mare per finalità politiche, invece ad un anno di distanza la risposta europea ha raggiunto un punto ancora più basso. L'accusa mossa da queste associazioni è che la situazione di stallo che si è creata è la più pericolosa di tutte per quanto riguarda l'assistenza in mare, soprattutto perché non ferma l'ondata di migranti intenti a fuggire, nelle ultime sei settimane si è registrato un aumento delle iniziative migratorie e mette in seria difficoltà chi monitora le coste africane per cercare di porre rimedio a questa crisi umanitaria. Google Maps introduce nuovi servizi, primo tra tutti il servizio SOS Alert, che avvisa gli utenti in caso di disastri naturali. Per quanto riguarda gli uragani, l'applicazione avvertirà l'utente se questo si trova vicino ad un'area che sarà colpita, mentre in caso di terremoti l'app mostrerà l'epicentro e l'area interessata dalle scosse. Il popolare servizio di mappe introduce anche il tachimetro, uno strumento che indica in tempo reale la velocità a cui si sta viaggiando, e manda un alert al guidatore se questo sta superando i limiti di una certa zona. Uno sgarbo alla Juventus per tentare di ripetere la storia con il piccolo Cristianinho. Lo Sporting Lisbon ha avviato i primi contatti con Donna Dolores, mamma di CR7, per portare in squadra il figlio di Cristiano Ronaldo. Il bimbo di nove anni gioca con i parietà nella Juventus e ha già fatto vedere doti fuori dal comune. Per questo motivo, come riporta il Correio da Maia, lo Sporting starebbe provando la fondo decisivo per strappare il piccolo campione al club bianconero. Difficile però che l'affare vada in apporto considerando il contratto di papà CR7 a Torino. Il Milan prova a strappare all'Inter il giro campista del Cagliari Nicola Barella. I nero-azzurri restano in vantaggio e sono la prima scelta del giovane azzurro, ma manca ancora l'accordo con la società sarda. Il presidente del Cagliari Giulini parte da un prezzo di 50 milioni di euro, 35 in contanti e 15 tramite contropartite tecniche. A Osilio e Marotta, invece, ne offrono 35 tutto compreso. Dopo le gare con la nazionale maggiore, Barella è ora a disposizione dell'Under 21 di Gigi Di Biagio, che domenica affronterà la Spagna nell'esordio europeo. La sua preferenza all'Inter è dettata soprattutto dalla voglia di giocare in Champions League la prossima stagione. Gabriel Omar Battistuta torna alla Fiorentina. L'ex bomber Viola è pronto ad entrare in società con il ruolo di team manager. A lui spetterà il compito di parlare nel dopopartita e agli eventi in rappresentanza del club. L'argentino torna così a lavorare con Vincenzo Montella, suo compagno di squadra alla Roma, nell'anno dell'ultimo scudetto giallorosso. Oltre all'aeroplanino confermato come tecnico, resta nell'organigramma anche Giancarlo Antonioni, a cui ha affidato il compito di convincere Federico Chiesa a non lasciare Firenze. Per il ruolo di direttore sportivo c'è invece l'accordo con Daniele Pradè. In pochi giorni Rocco Commisso sembra aver sistemato tutti i tasselli. Il nuovo patron Viola è atteso in città per il 23 giugno, quando svolgerà il ruolo di magnifico Messere nella finale di calcio storico fiorentino. Dovrà calcolare e analizzare rischi e opportunità la Lega Calcio riguardo la creazione di un canale autonomo per quanto concerne il triennio 2021-2024 della prossima Serie A. Inoltre, prendendo in considerazione le richieste dei singoli club, la commissione della Lega dovrà sintetizzare le proposte di Media Pro. Ai club sarebbe garantito un minimo di 1 miliardo e 60 milioni a stagione. In aggiunta poi Media Pro metterebbe sul piatto 55 milioni per gli archivi e un budget di 78 milioni di euro per la produzione e la distribuzione del canale. Si prospetta dunque una nuova collaborazione fra la società spagnola e la Lega Calcio. Nel frattempo, la stessa Media Pro ha ottenuto il rinvio dell'udienza presso il Tribunale Civile di Milano nella causa che la vede contrapposta ai club di Serie A sulla caparra da 64 milioni depositata in occasione della precedente asta dei diritti televisivi.